La partita è equilibratissima come dell'attesa, si è risolta nel modo più spettacolare e l'hai risolta tu alla fine. Sì, guarda, una partita che ci aspettavamo così, anche se devo dire che entrambe le squadre un po' sotto tono. Forse l'emozione, forse quello che c'è stato in passato, la nostra uscita dai play-off, il loro ingresso. Comunque siamo contenti così, io dico che ce lo meritavamo. Ce lo meritavamo perché abbiamo dimostrato di essere squadra perlomeno alla pari con loro, quindi sono molto soddisfatta. L'ultimo rigore ovviamente è un rigore pesante e se non la più esperta, chi è che può prendersi questa responsabilità?